con la canzone questa sera si hanno fatto una sorpresa mi fanno ballare la tarantella attenzione che bella è una bussa per voi buon 2011 a tempo di tarantella col ministro Brampilla devo comunicare signori io mi rifiuto mi rifiuto letteralmente di guardare da quella parte se questo è il 2011 preferisco il 2012 prego preverendo padre in questo momento di preghiera innanzitutto chiedo scusa perché mi sono dovuto portare il foglio ma non riesco più a studiare i discorsi a memoria buonasera a tutti vi starete sicuramente chiedendo cosa fa un cardinale qui su un palco in mezzo a tutti questi così stessi vi preciso subito sono qui perché insieme al nostro gruppo degli anguilloni vogliamo farvi ascoltare una canzone che abbiamo preparato noi così alla buona canta anche lui sì meno male per questi ragazzi per dirgli che sono forti sono bravi e che devono continuare così musica maestro grazie sì noi siamo questa sera festeggiare con un'orchestra in un'orchestra e poi l'incitamento ad ogni loro evento e se non vuoi sperare aggregati anche tu insieme ai anguilloni che tipo farti più ehi 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 secondo parte da clonare dai marchi cristi a poi imparare il lupo assai più forte batterà e marca il basso suonerà le luce le balle le urle di fischietti e poi l'incitamento ad ogni loro evento e se li vuoi sperare aggregati anche tu insieme ai anguilloni il tipo un più grande di più ehi ehi tutti insieme a pò tutti insieme a pò ehi 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 le luce le gampiere le urle di fischietti e poi l'incitamento ad ogni loro evento e se li vuoi sperare aggregati anche tu insieme ai anguilloni Il tifo va di più e scendiamo il progetto, aggregati anche tu, insieme agli appelloni, il tifo va di più. A te! A te! Grazie, grazie. E buon 2011 per tutti. Pace a tutti e bene alle signori. Torniamo a ballare il turista!